Radio ECZ sui 94 MHz dal lunedì al venerdì in corso questa sera Massi J, Baby Black e il nostro tecnico DJ WT bravissimi, grazie e splendidi per la loro collaborazione signori è la benitore Margin Man! Grazie! Allora un tifo naturalmente da stadio per la nostra Bedizzone Margin Band lo spettacolo che presentano questa sera è stato creato dai due player del gruppo e prende il nome di New Generation il band director Aldo Bettini e i giovani ragazzi della Bedizzone Margin Band saranno protagonisti di uno spettacolo diviso in quattro parti e accompagnato da quattro brani Uptown Funk, Timber Firework e Trumpet signori è la Bedizzone Margin Band iscriviti a tutti i nostri spettacolo diviso in quattro parti è il band ready lead start 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 un'altra 1, 2, 3 un'altra 1, 2, 3, 4 3, 4 6 7 8 8 8 8 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.